Non sono mancati giorni di passione per i tifosi del Campobasso, lo saranno evidentemente fino alla pronuncia del Tar del Lazio, prevista per martedì 2 agosto. Il movimento della Lega Pro si è regolato di conseguenza. Il 4 verranno stilati i gironi il giorno successivo ai calendari. La stagione è alle porte, l'inizio è fissato per il 21 agosto con la Coppa Italia, la settimana successiva il campionato. Gli amanti del Campobasso attendono con trepidazione ma anche con consapevolezza che la riabilitazione nel professionismo può essere un fatto con probabilità assai basse statistiche alla mano. Ma quantomeno dopo il 2 terminerà questo periodo di attesa prolungata, di speranze riposte e poi deluse in attesa di sapere l'esito di martedì. O dentro e sarebbe una grande gioia o fuori e allora via le incognite sul quale campionato affrontare. Davvero sfortunato e maltrattato questo lupo rosso-blu quando sembrava aver abbandonato le piazze e i gironi della Serie D, ecco che lo spettro può tornare dopo solo un anno. Tra i professionisti ci si prepara ad una nuova settimana di interrogativi e attese sotto l'ombrellone. Vale lo stesso anche per tutti quei calciatori che hanno ancora il contratto con il Campobasso e che oggi sono nel mirino di tante società di Lega Pro. Segnale questo che si è fatto bene lo scorso anno, tutti congelati in attesa del Tar. Si vive sul filo del rasoio ormai da più di un mese e a questa parte si sta provando a cercare la verità dei fatti che almeno per ora ha condannato il Campobasso. Si sarà trattato anche di un mero fatto di forma ma la sostanza è che effettivamente la società rosso-blu non era in regola del tutto con il pagamento di adempimenti fiscali arretrati. Questo hanno evidenziato sia la Covizoc che il CONI, per ora tutti fermi in Serie C in attesa del futuro del Teramo e del Campobasso. Giusto così per quel rispetto che si deve ad un organo come il Tar del Lazio. Grazie a tutti.